Il tempo passa, inesorabile, e un'altra settimana se n'è andata col Teramo ancora fermo al palo. Aspettando che lunedì venga fuori qualche novità dal Tribunale di Roma sulle misure che hanno portato le quote del club ad essere amministrate da tecnici nominati dal Foro Capitolino. In settimana il comunicato di Franco Iachini sulla salute delle casse bianco-rosse ed eventuali responsabilità del passivo attuale non ha modificato comunque uno scenario che vede ancora tutto in divenire. La politica, sindaco Gianguido D'Alberto in primis, chiede di fare presto e di avere la lungimiranza di trovare una soluzione prima che il tempo, ancora una volta inesorabile, decida per tutti. I contatti con Bizzaglia, che sarebbe interessato anche alla Viterbese, con Rizzaro, ultimo in ordine di tempo, finora non hanno spostato assolutamente nulla. Tra un mese quasi esatto scadono i contratti di molti calciatori, dell'allenatore, del direttore sportivo, mentre manca ancora meno alla messa a punto dei documenti per l'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. Ora, posto che Terra Moreggiana, ultima gara della stagione regolare, risale a più di un mese fa e che da allora, rumors a parte, non c'è stato più nulla di rilevante da segnalare, forse andrebbe presa coscienza che la clessidra viaggia veloce, più veloce dei tempi della diplomazia, dei contatti, delle chiamate esplorative e delle strategie sotterranee. A questo punto, la giornata di lunedì, ammesso che porti lo sblocco delle quote detenute dai Ciaccia, cosa che rimane comunque un'eventualità, ci sarà da fare presto, ma davvero presto. Defilato Spinelli in questo frangente, si è passati dall'ingresso alla sponsorizzazione al silenzio. Tattico? Probabile. C'entrano qualcosa i numeri del comunicato di Iachini? E chi può dirlo? Se così fosse, sarebbe un discorso che riguarderebbe chiunque provi ad avvicinarsi alle sorti della società. I Ciaccia sperano di riavere il teramo nella pienezza delle possibilità. A quel punto ci sarebbe una lunga volata fino al 22 giugno. In caso contrario, gli interrogativi permarrebbero e sarebbero addirittura anche di più. E in ogni caso, la strada del mantenimento della categoria pare essere l'unica che si vuole giustamente prendere in considerazione. Solo qualora le cose cambiassero, allora si inizierebbe a ragionare su altro. Per ora, però, il silenzio è essenzialmente delle parti in causa. La tifoseria aspetta con fiducia, certo, anche se ogni giorno che passa, senza che accada un bel nulla, fa calare il termometro dell'ottimismo, come giusto che sia. Grazie.